Volevamo questa vittoria, volevamo questa vittoria, volevamo questa vittoria, sì, sì, Pulisic, Pulisic, grande capitano America, grande, ingravidami, ingravidami, veramente è stata una sofferenza, però allora ho visto un primo tempo un gran bel Milan, ma alla fine posso dirvi questa cosa, siamo stati in pieno controllo del nostro avversario, non c'è stata assolutamente partita, io non ricordo grandi rischi che il Milan ha corso, Stefano Pioli ha sette vitte, voi dovete dirgli, allora io dico dirigenza, voi ogni domenica dovete dirgli che alla prossima rischia l'esonero, così lui ogni volta la vince, perché se no, se si adagia un attimo, questo mi fa l'errore, mi sbaglia la partita, mi fa cazzate, invece tu lo tieni sempre lì sulla graticola, anche quando è messo bene, sempre sulla graticola, e questo ha sette vite, ed era importantissimo vincere, perché adesso siamo a cinque punti dal quinto posto, è un buon vantaggio, nove punti dal primo posto, però quello per il momento non guardiamolo, non ci interessa, non è cosa nostra, guardiamo di allontanare il quinto posto che è l'obiettivo ormai primario, perché il Milan deve stare in Champions la prossima stagione, ho visto entrare giovani buoni, perché Zeroli a me piace tantissimo, Krunic, non credetisi, per me non ci aveva il mal di schede, ormai è un ex giocatore del Milan, quindi, ma è cento volte meglio vedere Zeroli che Krunic, Zeroli, io lo so, è più forte di Krunic, qualche cosa che mi ha spaventato di Adli, però nel complesso, dinamicamente il Milan c'è stato, Leao l'ho visto aiutare anche in fase difensiva, in fase offensiva, l'importante era vincere, il resto a me frega un cazzo, adesso noi dobbiamo fare una serie di vittorie per mettere a sicuro la Champions, le prime quattro posizioni messe a sicuro quelle, possiamo vedere a che punto è il campionato, ma nove punti sono ancora tanti, sono ancora tantissimi, godiamo per questa vittoria, adesso andiamo a mangiarci tutti, pizzettina, birrettina e rutto libero, tanti pollici in su al benzinero se state godendo, iscrivetevi al canale, pollici in su al benzinero, vai!